ecco marco valdo al parco leopardi è una domenica d'estate ma un po scura di cielo non c'è praticamente nessuno solo un altro un signore oltre a me lo vedete lì inquadrato cosa sono venuto a fare sono venuto a cercare le piantine di fragole se sono sbocciati i frutti delle piantine di fragole che avevo visto qualche settimana fa avevo visto tante piantine di fragole e adesso apparentemente i frutti sono sbocciati andiamo vicino per raccogliere questi frutti delle fragole o ecco una bella fragola rossa disse marco valdo ma guardandola meglio si accorse che capperi è una finta fragola vedete com'è fatta è una fragola che sta all'insù in mezzo alle foglie non è buona da mangiare che peccato è pensare che ce ne sono tante per esempio qua ecco le belle rosse ma sono mannaggia tutte finte fragole quelle vere non sono riuscito a trovarle bisogna capire la faccina delle foglie ma alle foglie sembrano uguali a quelle delle fragole ma ci deve essere qualche sottile differenza per cui ahimè io di fragole vere qua sono destinato a non trovarne però al parco è molto bello lo stesso abbiamo anche visto uno scoiattolo che è una maniera che non trovarne